Sto aspettando, sto aspettando che mi metti le mani addosso per accompagnarmi, sto proprio aspettando, io non ti sto minacciando, che ti sta minacciando, ma vai affanculo pelato, vai a accompagnare senza mascherina, vai a accompagnare anche lui, vai, vai a accompagnare, non parlare con mia moglie, va a parlare con mia moglie, che ti mangio vivo, ti mangio. E' l'attore dei merda, meno di gente senza mascherina, come per cazzo a me. Cosa sono io? Chi è testa di cazzo? 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 non ne ricordiamo